Ben trovati nell'angolo dello sport. Ancora una sconfitta per il Pescara sul campo del Crotone, nonostante la pessima partita, una piccola cornice di pubblico c'era, erano 72 credo, non vorrei sbagliarmi, ma 72 tifosi che si sono sobbarcati all'onere di un viaggio di 1800 km tra andate e ritorno per far sentire l'afflato della tifoseria pescaresa, ad una squadra che sta avendo una marcia di molto peggiore di quella che ha avuto il Pescara nell'ultima apparizione in Serie A. Immaginate che il Pescara di oggi è la squadra europea che non ha mai vinto una partita, quindi ha questo record negativo. Eppure se tu vai a vedere i numeri della partita, vedi che il Pescara ha avuto un possesso palla di molto superiore a quello del Crotone, ma questo perché? Perché è un possesso palla sterile, perché il tiki-taka, come lo chiamano in generale, è stato fatto in quella partita soprattutto, ma anche in altre partite, operando sulla nostra metà campo. Quindi gli avversari ti guardano, ti lasciano sfogare, passano i minuti, dopodiché ti rubano palla al centro campo e se ne vanno in contropiede. Quindi una situazione estremamente delicata per questo Pescara. E adesso cominciano gli isterismi. Vi ricordate quando io all'inizio parlavo che dopo la partita con il Napoli soprattutto, poi dopo la partita con l'Inter, sentendo le espressioni e dei tifosi e dei dirigenti, ma anche dei colleghi giornalisti, dissi che l'entusiasmo è positivo, ma la esaltazione è estremamente negativa. Dalla esaltazione adesso, che è un fenomeno psicologico negativo, si è passati adesso invece all'isterismo. L'isterismo che sta portando anche il presidente della Pescara Calcio a dire, colpevolmente io aggiungo, ma se la squadra resta a otto punti a che vale fare il mercato di gennaio. Questo significa crearsi degli alibi per non operare sul mercato. Ed è un grosso, grossissimo errore. E a questo punto verrebbe da dire ai tifosi stati attenti, salvate la vostra dignità calcistica, se di dignità si può parlare in questi casi. Lo dico perché? Perché quando anche il Pescara perdesse con il Bologna e anche con il Palermo e quindi restasse a otto punti, poi c'è l'interruzione natalizia, da gennaio avrebbe il Pescara una partita del girone di andata più alta e 19 partite del girone di ritorno. 19 più uno fa 20, 3 per 20 fa 60, significa che ci sarebbero 60 punti a disposizione. Di questi 60 io vorrei toglierne anche 30 da lasciare nelle mani delle squadre più forti del Pescara, però ci sarebbero 30 punti che sommati agli otto punti attuali farebbero 38 punti e sarebbe salvezza. Però per poter conquistare questi 30 punti il Pescara non può presentarsi con questa formazione, né con questo gioco, né con questo tipo di povertà di gioco. Bisognerebbe che il Presidente facesse lo sforzo giusto, necessario, ad acquistare tre elementi forti, non gli scarti che gli passa Moggi o che gli ha passato Moggi nel passato, tre veri giocatori capaci di dare la spinta necessaria e il Pescara potrebbe salvarsi. Quindi se voi già, voi tifosi, ascoltate già il Presidente che dice se il resto ha otto punti che cavolo me lo fa fare, significa che vuole risparmiare quei soldi che comunque sono entrati e ne sono entrati tanti e dovrà comunque dimostrare in quale rivolo questi soldi si sono persi, in quali partite di giro tecnicamente sono andati a finire. La partita doppia è una realtà vera e quindi bisognerebbe capire come hanno mastriato, tra virgolette, per evitare che questi soldi venissero usati per il bene della Pescara Calcio. È tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie per la visione!